Gli Svizzeri, il tema del mese alla RSI, SRF, RTS e RTR. 30 giorni di televisione, di radio e di internet per parlare della Svizzera, della sua storia e del suo futuro. Tanto più che l'istruzione è la vera base della democrazia. Al centro dell'operazione, quattro film spettacolari su grandi personaggi della storia del nostro paese. Ne va dell'unità stessa della Svizzera. È la guerra. Dal patto medioevale. Solo uniti potremo resistere agli Asburgo. Fino al moderno Stato federale. Se non facciamo nulla, sarà come rinunciare al nostro avvenire. Solo chi sa da dove viene, sa dove vuole andare. Ognuno deve fare le proprie scelte. Gli Svizzeri, il tema del mese dal 3 novembre alla RSI, SRF, RTS e RTR.